Estate, tempo di vacanze, ma di certo non per gli amici a quattro zampe abbandonati agli angoli della strada. Un caso che, soprattutto nei mesi estivi, raggiunge le punte massime. Ogni anno, in Italia, secondo i dati forniti dalla LAV, la lega antivivisezione, si parla di una media di circa 80.000 gatti e 50.000 cani lasciati per strada. E tutto ciò si verifica per il 20-30% dei casi in prossimità della partenza per le ferie estive. Un fenomeno che non solo mette a rischio la salute degli animali, ma anche quella dei cittadini. Non è un caso, infatti, che per le strade dei centri urbani vi sono diversi branchi di cani randaggi che girano indisturbati per la città, mentre il canile comunale è al collasso. Accanto all'emergenza, però, non bisogna dimenticare che sono previste dalla legge sanzioni che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro o l'arresto fino ad un anno. Se sapene, è calcolata anche per chi ospita degli animali, facendoli vivere in condizioni incompatibili con la loro natura. Giorni addietro per sensibilizzare i cittadini a non abbandonare gli animali per strada, il Ministero della Salute ha diffuso nei comuni d'Italia un opuscolo indicando i diritti e i doveri di coloro che possiedono un amico a quattro zampe, che riguarda non solo le sanzioni penali per su chi maltratta o abbandona gli animali, ma anche quella di impegnarsi alla loro cura. Intanto i nisseni sanno bene che abbandonare gli animali agli angoli della città o nelle periferie è un gesto da denunciare e dichiarano i nostri microfoni di essere contrari ad ogni forma di abbandono. Perché abbandonare gli animali intanto deve farsi un estame di coscienza proprio, perché abbandonare l'animale è un guaio per sé, per la propria coscienza e per altri. Per altri perché il randagismo è una cosa grave, 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 che non deve mai succedere in una città come la nostra. È una cosa, per me, va, è una cosa che non piace tantissimo, avere gli animali abbandonati. E non è giusto farlo. O chi ce l'ha, abbandonarle. Perché è una cosa vergognosa, che uno si dovrebbe occupare degli animali, perché uno prende bene e può dare affetto, stima, può essere d'aiuto, ecco. Fanno male, lasciarli è una cosa avvilente, o si tengono e si custodiscono con amore, diversamente è meglio. Giusto, giusto, chiedete a me, sono contrarissimo, sia perché sono pericolosi, perché si formano i branchi e in branco diventano pericolosi, e soprattutto perché sono delle povere bestie che non è giusto che finiscono, in mezzo alla strada, grande lo pericolo anche per le altre persone. Beh, io sono un animalista convinto, per cui chi fa queste cose per me dovrebbe essere punito in maniera esemplare, per cui questo dico. Quindi non solo chi l'ha abbandonato nell'estate, ma sempre, per cui sempre. Io sono un animalista convinto, ho un cane, per cui è un ignominio, è una vergogna. È molto, molto brutto, perché ormai siamo pieni di animali che gironzolano per la città, sono pericolosi per noi, ma è un peccato per loro, perché fanno una brutta fine spesso. Non è bene, è giusto, ma anche abbiamo paura di cani, in giro sono tanti, tanti, tanti cani. È una cosa brutta. Cosa pensa che si possa fare? Intanto non bisognerebbe lasciarle, e poi bisognerebbe portarle a dei canili, provvisualmente lasciarle a qualche parente, che rimane a casa, rimane in città. Io sono Reduce, sono andato a prendere quattro gattini, mi hanno telefonato e me li sono portati in campagna, quindi io sono favorevole intanto ad accogliere questi animali. Non lasciarli mai, per nessunissimo motivo, è un problema che coinvolge tutti i cittadini di Caltanissetta. Ecco, questo è il mio e penso che approfitto per invitare il sindaco e l'amministrazione affinché intervengano. Capisco che i canili costano tanto, che forse le spese per accudire i cani sono superiori a quelle per l'assistenza agli anziani, ma io preferirei assistere un anziano in più che un cane. Grazie.